Buongiorno a tutti, benvenuti nel modulo lezioni di russo di Lina Undina. Oggi faremo la nostra 68esima lezione, che siamo sempre sulla lezione 19 e siamo arrivati alla pronuncia e agli esercizi di pronuncia dalla pagina 173-174 del nostro PDF. Io sono Lina Undina e vi ringrazio a chi mi guardate, non dimenticate di iscrivervi al canale per poter ricevere la notifica ogni volta quando faccio un nuovo video e per poter scaricare il materiale che metto per voi nei commenti. Allora, ho detto tutto e inizio con la nostra lezione. La pronuncia L dura. La L dura russa si distingue dalla L italiana. Nel momento in cui essa viene pronunciata, la punta della lingua tocca i denti superiori mentre la sua parte posteriore è sollevata verso la parte posteriore del palato. Per pronunciare più agevolmente la L dura, si può stringere tra i denti l'apice della lingua avendo cura al tempo stesso di tenere sollevata la parte posteriore di essa. Si può dare ancora un consiglio pratico che aiuterà a capire quale posizione deve avere la lingua nella pronuncia della L dura. Si pronunci dapprima la U e poi, senza mutare la posizione di tutta la lingua, si porti l'apice di essa verso i denti superiori. U-L sarebbe una cosa così. Esercizio di L dura numero uno. L'apice di L dura numero uno. Stol, Stul, Giurnal o Stal. Esercizio 2. Consonanti dolce, consonanti dure. Citаем. Qua dovete stare attenti ai accenti che io ho scritto uno per uno per voi. Vosem. Vosem. Dn'om. Davolna. Žal. Stul. Stol. Spettacl. Mart. Dožd. Osin. Syn. Plus. Zdess. Goro. Ploša. Utram. Siem. Jul. Ustal. Dožen. Dalše. Film. Dolga. Esercizio 3. La T. T dolce. Nell'infinito del verbo. Svanit. Diventa dolce perché qua dopo T c'è un miacchisnak che praticamente ammorbidisce la lettera che è penultima. E esercizio 4 che è praticamente l'ultima. La consunante X. Vходite, пожалуйста. Это комната отдыха. А там находится кухня. Завтра будет хорошая погода. Вы не хотите поехать за город? Я хочу поехать в Москву. Мне нравится архитектура Кремля. Ты хорошо говоришь по-английски. Плохо. Плохо. Con questo abbiamo finito la nostra lezione di oggi. Vi auguro buon studio. E vi do appuntamento alla prossima. До свидания. До свидания. До следующего раза. Пока.